Continua a tenere banco la questione dell'autovelox in via di sotto, è stata raggiunta a quota 15.000 multe in poche settimane, è quasi un record. Sicuramente è un record. Diciamo che adesso siamo in attesa della definizione dell'iter dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un ordine del giorno che prevede l'innalzamento del limite da 30 a 40 km orari, un limite accettabile. Infatti la maggior parte dei residenti sono soddisfatti di questa scelta. È chiaro che, questa è la parola dimostrazione, che quel limite non è attuabile, non è applicabile in quella realtà. Sicuramente via di sotto è una strada pericolosa, è una strada che ha bisogno appunto di questa tipologia di interventi. sull'autovelox siamo tutti d'accordo. Aggiungo un piccolo particolare che è molto importante. Via di sotto si verificano molti incidenti, soprattutto serali e notturne, dovute alla forte carenza dell'illuminazione pubblica. Quindi è giusto questo intervento con l'autovelox, è giusto l'innalzamento del limite a 30 km orari, ma occorre un forte e rapido intervento per mettere a norma l'illuminazione pubblica. Voi avete avviato una raccolta di firme che ora avete sospeso, ma la domanda è anche un'altra. Queste multe sono a rischio annullamento a questo punto? Io di questa cosa non lo so, non so se sono a rischio annullamento, ma non penso. La strumentazione era a norma, per cui chi ha preso la multa penso che dovrà pagare la multa, ma questo esula un po' dalla mia competenza. Avevamo iniziato una raccolta di firme, soprattutto nei centri commerciali di Via di sotto. Dopo una prima raccolta di circa 200 firme, già trasmessa al sindaco, la situazione è stata sospesa perché non ha più senso. Perché, ripeto, la richiesta con le firme era per l'innalzamento del limite a 50 km orari, ma ritengo 40 km orari un limite accettabile.